Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Lunedì avevamo raccolto ai nostri microfoni lo sfogo di alcuni utenti in fila, anche per due ore sotto il sole, in attesa della quarta dose. La sede di San Benedetto, un container di fronte al pronto soccorso, non riesce infatti più a reggere i numeri delle richieste delle vaccinazioni, passate da una ventina al giorno a circa 150. Mentre ad Ascoli non si sono registrati problemi alla Casa della Gioventù, in Riviera l'area vasta 5 ha già corse ripari con l'individuazione di un'altra sede che aprirà lunedì 1 agosto nella centralissima via Vittorio Veneto al Civico 22. Ma il dottor Claudio Angelini, direttore del Servizio Egiene e Sanità Pubblica, spiega anche il perché del momentaneo disservizio. Ci sono stati diversi ordini di problemi, in quanto l'accesso libero non permette di programmare le linee vaccinali, non ci permette in considerazione del fatto che il 31 marzo poi tra le altre cose, con la fine dell'emergenza, i medici somministratori che erano stati contrattalizzati grazie dall'Asur con una società interinale, poi hanno cessato il rapporto di lavoro. Quindi abbiamo dovuto far fronte con le nostre risorse, in particolare con i medici del Dipartimento di Prevenzione della nostra area vasta. Anche il personale di supporto, quindi amministrativi, nonché infermieri, abbiamo dovuto sopperire con figure nostre, che tra l'altro abbiamo dovuto distogliere da quella che è l'attività rutinaria. Ma c'è di più. L'altro aspetto è rappresentato dal fatto che si era data la possibilità di accesso ai punti vaccinali senza prenotazione. Quindi ci siamo trovati di fronte da una parte soggetti che erano prenotati, persone che erano prenotate e persone non prenotate, creando chiaramente anche degli alterchi tra loro proprio per questo motivo, senza considerare che il PVP di San Benedetto deve far fronte anche alle richieste di vaccinazione dei turisti. Il dottor Angelini ricorda che nonostante la lieve frenata degli ultimi giorni, il virus continua a circolare velocemente nel Piceno, con sintomi più o meno lievi che interessano soprattutto le prime vie respiratorie. Così gli ospedali di San Benedetto e Ascoli reggono ancora la pressione. Abbiamo sempre un numero relativamente importante di soggetti che poi ricorrono alle cure ospedaliere, ma quello che non desta in questa fase almeno preoccupazione è l'occupazione dei posti nelle terapie intensive. Tanto è vero che a tutt'oggi abbiamo soltanto un paziente ricoverato in terapia intensiva e tutti coloro che richiedono l'ospedalizzazione in semi-intensiva, per esempio abbiamo due pazienti, presentano delle patologie pregresse.